30 posti in più sono sicuramente una buona notizia per un patrimonio di ricettività territoriale che è purtroppo scadente. Scadente perché sono pochi gli alberghi e perché sono poche più in generale le strutture pronte ad accogliere i nostri turisti. E questo ha vantaggio invece delle numerosissime seconde case presenti. Quindi ogni qualvolta si creano posti in più, noi ovviamente non possiamo che essere felici e dobbiamo come promosterio dare annuncio e promozione di una possibilità in più che arriva dal territorio. Guardando avanti cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci di utilizzare tutti i canali a nostra disposizione partendo sempre dall'esistenza esistente e senza inventarci strane cose che di valorizzare il territorio sotto tutti i punti di vista. Dall'anno prossimo saremo attivi con lo sviluppo del tavolo di lavoro su Serio Green che sarà proprio questo progetto di promozione delle aree verdi del nostro territorio e di quelle che sono le oasi dell'alta e della media valle seriana che ci vedrà protagonisti insieme al Parco delle Orobie. Vogliamo sviluppare la comunicazione e la promozione su questi ambiti, creare percorsi itinerari insieme alle guide e agli accompagnatori che andremo magari a formare con corsi di formazione anche nell'ambito dei ragazzi dell'università e ovviamente poi coniugare il territorio con la ricettività presente. Grazie.